Ingredienti Dosi per 4 persone 1 cavolfiore grosso 400 g di riso pilaf Burro 200 g di carne di manzo tritata Sale Cannella Chiodi di garofano macinati Coriandolo Preparazione Tagliare a piccoli pezzi un cavolfiore Farlo friggere, crudo Scolarlo Nel frattempo Mettere su un'abbondante dose di riso pilaf Rosolare in una casseruola una noce di burro Carne di manzo tritata Sale e spezie Aggiungere il cavolfiore alla carne Coprire d'acqua e lasciare che il brodo prenda sapore e ridurre Il piatto è pronto Buon appetito!